Obiettivo 500.000 firme per il referendum abrogativi della legge elettorale vigente, il cosiddetto Rosatellum. Se altre iniziative come quella contro l'autonomia differenziata hanno già raggiunto la soglia, i quattro quesiti sul Rosatellum sono un po' indietro. Di qui la conferenza stampa di oggi del coordinamento democrazia costituzionale di Trieste insieme al Movimento 5 Stelle regionale. Importante invitare i cittadini a partecipare, hanno spiegato gli esponenti del coordinamento Tommaso Russo e Pierpaolo Brovedani. Si può firmare ai banchetti, uno è previsto già domattina in largo barriera oppure online. Da questi referendum che noi adesso stiamo portando alle firme, per mettere dei paletti perché dopo che un referendum è stato vinto il Comitato Promotore diventa un organo dello Stato che ha il diritto di impugnare davanti alla Corte Costituzionale direttamente, senza intermediari, qualsiasi legge che vada contro i risultati del referendum. E questo è quello che intendiamo fare nel caso passi la riforma cosiddetta del premierato. Alcuni punti del Rosatellum sviliscono il diritto di voto, ha spiegato Rosaria Capozzi, consigliera regionale 5 Stelle, è il sistema che causa disaffezione politica e scarsa affluenza alle urne. Le ha fatto eco la segretaria regionale Elena Danielis. Questi referendum sono fondamentali. Il fondamento di una democrazia sana è che la legge elettorale sia equa e rispecchi quanto più possibile le volontà degli elettori. Il problema del Rosatellum è che per tanti aspetti rende impossibile per l'elettore scegliere veramente il soggetto da cui vuole farsi rappresentare.